Adesso si sta colpevolizzando chi pensa di non vaccinarsi, non è giusto perché alcune perplessità, anche il fatto stesso che io devo cambiare tutto quello che ho studiato e mi dicono che devo vaccinarmi anche se ho avuto il Covid, questo va contro i principi basilari che io ho studiato al terzo anno di medicina, la patologia generale, l'immunità naturale e normalmente superiore all'immunità artificiale. A mio avviso l'obbligo è sbagliato. Al bando l'obbligo vaccinale per il Covid-19 anche per gli operatori sociosanitari. Parla a titolo personale Oriano Mercante, segretario di uno dei più grandi sindacati dei medici a Nao Assomed. Parla anche da medico però e le sue parole hanno un peso rilevante e danno conto delle riluttanze rispetto al vaccino obbligatorio per chi lavora nelle strutture sanitarie. Ad oggi operatori vaccinati verso il 60% nelle marche, l'aspettativa è il 70% entro un paio di giorni. Mercante aggiunge nuove perplessità intorno all'obbligo, compresa la poca disponibilità. Il fatto che nell'influenzale ci sono due tipi di vaccini, per anziani e non anziani, adesso abbiamo un solo tipo di vaccino per tutti, siamo sicuri che è uguale per tutti? Quindi queste sono alcune perplessità legittime che non sono per carità, adesso se tu poni una semplice obiezione ti dicono che sei no vax, io non sono assolutamente no vax. Non ci sono i vaccini, che cavolo di polemica vogliamo fare sull'obbligatorietà? Abbiate pazienza, come la campagna per la vaccinazione anti-influenzale in cui non si sono mai trovati i vaccini. L'obiettivo vero quindi è vaccinare gli anziani. Sono 133.411 gli ultraottantenni marchigiani compresi nella fase 1. Anche qui moral suasion senza obbligo. Il problema sono gli anziani. Vacciniamoli, vacciniamoli assolutamente, sempre su base volontaria, però le posso assicurare che la maggior parte degli anziani ha una grande paura e quindi se gli venisse proposto il vaccino lo farebbe molto volentieri.